Incidente sulla strada statale 121, sessantenne perde la vita nel giorno di Santo Stefano. Carcere in Malaspina, poliziotto penitenziario aggredito da un detenuto, la denuncia di un'organizzazione sindacale. Caltanissetta, pneumologia e intervento dell'Associazione Noi per la Salute. Betlemma agli angeli, apertura del presepe vivente nel quartiere arabo del capoluogo Nisseno. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca. Incidente sulla strada statale 121, sessantenne perde la vita nel giorno di Santo Stefano. I dettagli nel servizio. Incidente mortale nel giorno di Santo Stefano sulla strada statale 121. L'episodio si è verificato tra Ponte Cinquearchi e Santa Caterina Villarmosa, in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 62 anni, Mario Rosario Laplaca, stava percorrendo la strada provinciale con la sua moto, quando per cause da verificare ha perso il controllo del mezzo. Il motociclista ha finito la sua corsa cadendo violentamente sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato tempestivamente l'elisoccorso. Per l'uomo, che era meccanico e titolare di una ditta a Caltanissetta, residente a Santa Caterina Villarmosa, purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno soltanto potuto constatarne il decesso. E adesso parliamo del carcere Malaspina, la denuncia di un'organizzazione sindacale poliziotto penitenziario aggredito da un detenuto. Sentiamo. La situazione di emergenza nelle carceri non tende a placarsi. L'ultimo episodio di violenza si è verificato il giorno di Natale. Un detenuto di nazionalità italiana nel pomeriggio del 24 dicembre e la mattina del 25 ha aggredito il personale di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Caltanissetta. Il caso, verificatosi nel carcere Malaspina del capoluogo Nisseno, è stato denunciato dal sindacato nazionale autonomo Polizia Penitenziaria. Il detenuto si sarebbe scagliato contro il personale per futili motivi, colpendo un agente con un pugno al volto e procurandogli delle lesioni, tanto che il poliziotto ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Il fatto sarebbe scaturito dal tentativo che il detenuto stava compiendo di far passare dei generi alimentari dalla stanza di alcuni detenuti a un'altra. Il richiamo alle regole da parte degli agenti ha scatenato la reazione violenta dell'uomo. L'ispettore ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici, riportando una frattura ritenuta guaribile in 30 giorni. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi hanno arrestato un 25enne in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentive per regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela per detenzione ai fini di spazio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato condannato un anno, un mese e quattro giorni di reclusione. E adesso cambiamo argomento, parliamo di pneumologia, l'intervento dell'Associazione Noi per la Salute. L'Associazione di Promozione Sociale Noi per la Salute di Anselmi punta l'attenzione su pneumologia, evidenziando che il reparto di un ospedale classificato DEA di secondo livello deve offrire diverse prestazioni, dalla spirometria globale al servizio di unità terapia semi-intensiva respiratoria. Evidenziamo la nostra preoccupazione in base alle criticità di questi pazienti, che per le loro criticità richiedono un'assistenza continua da parte di personale qualificato, in modo particolare personale che sia già con esperienza nel settore pneumologico. Siamo preoccupati, come ha appena espresso il Presidente, per la situazione che si è venuta a creare per il reparto di pneumologia, che essendo stato trasferito tra l'altro nel complesso maggiore dove era prima, si è venuta a creare di fatto la possibilità di riattivare il servizio di oncologia e quindi della medicina nucleare, cosa che è sospesa dal Covid innanzi, insieme ad altri servizi, devo dire. Quindi la nostra richiesta è molto semplice, considerato anche il fatto che esiste, sappiamo che esiste un medico che è stato assunto proprio a questo scopo e quindi riattivare questo reparto è fondamentale. E oltretutto è importante che tutto ciò venga ratificato, venga preso in considerazione dall'assessorato alla salute della regione siciliana, perché queste sono delle necessità di una comunità e soprattutto di una struttura che dovrebbe essere un DEA di secondo livello. Tutela e proroga dei contratti in scadenza le richieste del Comitato Lavoratori Emergenza Covid. Si fa sempre più rovente all'atmosfera fra i lavoratori assunti durante il Covid in Sicilia e il governo. In tanti rivendicano la stabilizzazione così come è avvenuto per i sanitari. Migliaia di professionisti, amministrative e tecnici reclutati, al pari di medici, infermieri e operatori, nelle diverse aziende sanitarie durante l'emergenza Covid rischiano il posto di lavoro e la possibilità di poter continuare a garantire servizi essenziali d'assistenza. Inizia così la nota del coordinamento regionale Comitato Lavoratori Emergenza Covid-19 della Sicilia e dei nuovi coordinamenti provinciali. I lavoratori assunti sono circa 2.500 in tutta l'isola. Il personale sanitario e sociosanitario, contrariamente al personale amministrativo, è stato inserito in un chiaro percorso normativo che li tutela e che estende al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza dell'arco temporale in cui gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono assumerli a tempo indeterminato, continua la nota. Riconosciamo l'impegno preso dal Governo Nazionale che mira a trovare una definitiva soluzione per la nostra categoria all'interno del mille proroghe, come dichiarato da autorevoli esponenti del partito di maggioranza. Siamo amareggiati, delusi e ci sentiamo traditi perché le tante promesse e rassicurazioni fino a questo momento sono state malamente disattese da chi può tutelare noi e un sistema sanitario regionale che senza di noi subirebbe un ulteriore duro colpo che la sanità non può permettersi. Chiediamo oggi le stesse forme di tutela garantite al personale medico-infermieristico e nell'attesa che queste possano attuarsi una congrua proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2022. Annunciamo che, ove la situazione non dovesse trovare immediata soluzione giuridica e politica, conclude il comunicato, daremo vita a forme di protesta oltranza nelle sedi ritenute più opportune al fine di giungere a una risoluzione concreta. Per un volo cancellato in partenza da un aeroporto siciliano, una donna di Caltanissetta ha ricevuto 250 euro di risarcimento dalla compagnia interessata. Sulla questione è intervenuto il giudice di pace che ha applicato il regolamento comunitario 261-2004 che tutela i passeggeri aerei anche in casi di volo cancellato. In particolare nella fattispecie, si precisa, non vi erano circostanze di sciopero di condizioni meteo avverse, si legge in una nota diffusa dalla società che ha assistito la passeggera nissena. E adesso parliamo dell'apertura del presepe vivente nel quartiere arabo del capoluogo nisseno, Betlemme, Agli Angeli. E' stata ricreata una piccola Betlemme nel quartiere Angeli di Caltanissetta, nome riportato in alto anche all'ingresso del presepe vivente, sull'arco posto alla fine della scalinata che dà sul vicolo Cardella. Betlemme Agli Angeli ha accolto numerosi visitatori nel giorno di Santo Stefano, il primo giorno di apertura dopo la benedizione da parte del vescovo della diocesi nissena, avvenuta al termine della messa delle ore 23 della vigilia di Natale. La fila è lunga ed è motivo di gioia, la serata tra l'altro è particolarmente bella e quindi siamo molto contenti per questa numerosa presenza. Ci auguriamo che tutti possano godere bene di questo nostro presepe in questa nostra serata e nelle prossime. L'inaugurazione è andata abbastanza bene, la sera del 24 c'è stato il vescovo e ha benedetto il nostro presepe e questa sera invece alla presenza del sindaco e poi anche di altre autorità abbiamo vissuto con semplicità un momento di inizio di questa grande avventura. Questo presepe è organizzato dalla parrocchia San Domenico a Caltanissetta da più di una cinquantina di animatori, tengo sempre a dire che non sono figuranti ma sono animatori del quartiere Angeli, il quartiere Betlemme Agli Angeli nella parrocchia San Domenico di Caltanissetta. Intorno alle 18.30, momento dell'apertura del presepe, un piccolo corteo dalla parrocchia di San Domenico sino alla location scelta per l'allestimento ha accompagnato la natività e lo farà anche nei giorni successivi e cioè il 28-30 dicembre, il 5 e il 6 gennaio quando ci sarà anche l'arrivo dei Remaggi. Accanto alla Sacra Famiglia sono presenti tra i vicoli e le vie del quartiere arabo diverse postazioni segnalate da insegne in dialetto e che ripropongono i mestieri di un tempo e non solo. Ci sono gli antichi mestieri, ci sono i prodotti della nostra terra e c'è una comunità che si è ritrovata per ricordare e onorare Gesù Bambino e far vedere questo spazio particolarissimo all'intera città e anche a degli amici che stanno venendo da fuori Caltanissetta. Ho già diversi anni che partecipo, c'è stata la pandemia, ultimamente gli ultimi anni non abbiamo preparato il presepe e quest'anno con tanto entusiasmo abbiamo rifatto di nuovo il presepe. È una cosa che mi piace e poi si ricorda la nascita del Signore Gesù, diciamo, quindi è una cosa bella che penso che per chi ha fede è una cosa importante. Ho ottenuto un finanziamento per un progetto che riguarda la Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli, ma sentiamo i dettagli nel servizio. Il Comune di Caltanissetta, con il suo progetto per la Biblioteca Scarabelli, rientra nella gradatoria delle proposte progettuali ammesse a finanziamento, avendo risposto all'avviso pubblico pubblicato sul sito del Ministero della Cultura per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministro della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR, missione 1, componente 3, investimento 1.2. Secondo la gradatoria approvata con decreto direttoriale della Direzione Generale dei Musei il 21 dicembre, la città, ed in particolare il progetto che riguarda la Biblioteca Comunale, ottiene quasi 500.000 euro per l'esattezza 499.760 euro, una somma che permetterà ai cittadini di fruire maggiormente della biblioteca e dei tesori custoditi al suo interno. L'attenzione dell'assessorato comunale già da tempo si rivolge verso questa direzione. Nel mese di ottobre, infatti, il Comune Niseno era presente anche agli stati generali delle biblioteche. Nel mese di ottobre, insieme all'assessore Natale, abbiamo partecipato a questo evento, gli stati generali delle biblioteche che si è svolto appunto a Milano e questo finanziamento rientra perfettamente in quello che erano i dettami dell'incontro. Quindi faremo di tutto per rendere la biblioteca fruibile a tutti quanti, aperta quanto più possibile per essere utilizzabile, fruibile dai cittadini nisseni. Questo è un progetto veramente importante ed è veramente un fiore all'occhiello di questa amministrazione perché la biblioteca diventerà un luogo accessibile a tutti e questo era il primo punto più importante per quanto riguardava questo finanziamento e inoltre diventerà un luogo nel quale tutta la comunità, tutta la cittadinanza potrà recarsi per condividere esperienze di socializzazione e di cultura e questo diventa un tassello importante per la costruzione del polo di arte e cultura al quale stiamo lavorando da più di un anno. Quindi noi avremo un attrattore importantissimo al centro storico e sarà una struttura adeguata ai nostri giovani. Venerdì 30 dicembre il termine per la presentazione delle istanze per il bando a sostegno delle famiglie con figli disabili che frequentano la scuola. Entro le 12 di venerdì prossimo 30 dicembre si potranno presentare le istanze per partecipare al bando finalizzato a sostenere le famiglie con figli disabili che frequentano la scuola. Un bando voluto dal comune di Caltanissetta per quei ragazzi con disabilità che frequentano sia la scuola dell'infanzia, le primarie o le secondarie di grado statali per l'anno scolastico in corso, ovvero 2022-2023. Il bonus sarà utilizzabile per sostenere i costi che le famiglie affrontano accompagnando i figli a scuola sia con il proprio mezzo che in caso di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato garantendo così la frequenza scolastica di loro diritto allo studio e all'integrazione. Il modulo è facilmente reperibile e scaricabile dal sito del comune www.comune.caltanissetta.it Una volta compilato sarà necessario presentare l'istanza entro le 12 di venerdì prossimo. E cambiamo ancora una volta argomento, parliamo del bando del servizio civile Sinergie per l'inclusione e l'autonomia, il progetto che coinvolge la cooperativa sociale Etnos la durata è di 12 mesi. Sono quattro i posti disponibili a Caltanissetta presso la cooperativa sociale Etnos per i ragazzi e le ragazze che vorranno vivere l'esperienza del servizio civile attraverso il progetto Sinergie per l'inclusione e l'autonomia di Lega Cop Sicilia. Il progetto che prevede un contributo economico per chi partecipa a una durata di 12 mesi in totale 1145 ore per 5 giorni a settimana. Possono presentare istanze giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado. Viene richiesta la flessibilità oraria ma anche la disponibilità a spostamenti sul territorio o a trasferimenti temporanei o ancora svolgimento di attività presso sedi temporanee per non più di 30 giorni ed eventuale disponibilità anche nei giorni festivi in occasione di particolari eventi. Al termine del progetto verrà rilasciato un attestato di partecipazione e un'attestazione delle competenze. Le domande potranno essere presentate sino al 10 febbraio 2023 entro le ore 14 tramite apposita piattaforma scegliendo il progetto al quale si desidera partecipare. Sinergie per l'inclusione e l'autonomia coinvolge due cooperative a Caltanissetta e una a Palermo. Il progetto si precisa nella scheda di sintesi quale frutto della collaborazione e coprogettazione tra diversi soggetti che con i loro servizi operano su territori diversi Palermo e Caltanissetta mira a promuovere il rafforzamento della coesione sociale e la riduzione delle disuguaglianze sociale, territoriale, di genere eccetera. A Caltanissetta grazie alla passione e alla competenza di due naturalisti di due tenacissimi ambientalisti è nato il giardino Brassicatineoi. Il giardino botanico deriva il suo nome da una pianta che ha legami storici con l'entroterra nisseno, il locus classicus dello stesso vegetale, infatti si trova a poca distanza dal giardino stesso sul monte Sabucina. Il giardino è opera di Lucia Termini e Medofalci che hanno concepito questo luogo oltre che come oasi per la coltivazione di piante autoctone e officinali anche come laboratorio e luogo di confronto per chi si voglia avvicinare alla conoscenza di queste piante. Fa sapere le androianni di Italia Nostra. Nel giardino attualmente sono presenti circa 500 specie. Vallelunga, villa romana. Dagli scavi archeologici emergono tre nuovi edifici. La villa romana di età imperiale, emersa nel corso degli scavi archeologici a Vallelunga, continua a regalare preziosi ritrovamenti. La villa romana di età imperiale, primo o secondo secolo d.C., ritrovata nel corso degli scavi archeologici condotti in località Manca, Vallelunga Pratameno, in provincia di Caltanissetta, continua a regalare preziosi ritrovamenti. Il rinvenimento, nei mesi scorsi, di alcune tegole con bollo lascia pensare che la villa sia collegabile a un personaggio della cerchia pubblica romana. Le ricerche sono state avviate tra il 2020 e il 2021 a seguito dell'attività di vigilanza della soprintendenza dei beni culturali di Caltanissetta sui lavori dal raddoppio della linea ferrata Catania-Palermo. L'attività di vigilanza svolta dalla soprintendenza di Caltanissetta, dice l'assessore ai beni culturali e all'identità siciliana Elvira Amata, ci sta restituendo un'importante testimonianza della vita economica dell'entroterra siciliana, in quell'area che per i romani era il granaio dell'impero. Il ritrovamento di abbondante materiale ceramico di scarico all'esterno degli ambienti, evidenzia la soprintendente Daniela Vullo, lascia ipotizzare un'attività di produzione e lavorazione che ancora non siamo in grado di definire dettagliatamente, mentre gli edifici individuati presentano caratteristiche costruttive che stiamo riscontrando in modo costante. Le costruzioni individuate nel corso dell'ultima fase di scavo, quasi sempre a pianta rettangolare, sono costituite da almeno quattro vani in sequenza, mentre un altro dato interessante che si deduce dagli ultimi scavi, secondo quanto riportato dal sito online della regione Sicilia, riguarda la sequenza della frequentazione del sito. Per le conclusioni però bisogna attendere, visto che lo scavo non è ancora stato completato. La pagina Facebook della Questura di Caltanissetta ha superato i 15.000 follower, ottenuto 13.498 mi piace. Nella pagina, creata nel settembre del 2021, quotidianamente i visitatori possono trovare informazioni sui temi che riguardano l'attività istituzionale di prossimità e operativa della Polizia di Stato di Caltanissetta. Complessivamente circa 700.000 le persone che nell'ultimo mese hanno visto uno dei contenuti pubblicati nella pagina. Contatti anche da Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. La pagina della Questura di Caltanissetta è al tredicesimo posto per numero di follower e interazioni tra quelle delle questure italiane. Parliamo di un progetto deliberato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, Caltanissetta, in un clic. Tre giornate dedicate alla valorizzazione e potenziamento della creatività degli alunni, fornendo occasioni di inclusione e di protagonismo culturale, si precisa nella determinazione pubblicata all'albopretorio, con la quale si impegnano le somme necessarie per attuare il progetto di OICOS per una comunità solidale e approvato nella seduta del 19 dicembre del baby Consiglio Comunale. Caltanissetta, in un clic, questo è il nome scelto e deliberato per riferirsi a questa attività progettuale, prevede nella prima giornata una presentazione dal punto di vista storico del Palazzo Moncada e la descrizione del Museo Tripiciano, nella seconda una presentazione delle tecniche fotografiche con un tutor e la sperimentazione pratica e infine nell'ultima giornata la presentazione delle foto realizzate dei ragazzi e un loro commento sull'esperienza vissuta. Si prevede anche una mostra, sempre a Palazzo Moncada, delle migliori fotografie. Il Consiglio Comunale Baby, nella stessa seduta, si legge ancora, ha altresì stabilito di chiedere al Sindaco di Caltanissetta e all'assessore al ramo di attivarsi al fine di emanare opportuna direttiva per destinare i fondi di cui al capitolo ha ciò dedicato la somma di 2.950 euro all'APS OICOS per una comunità solidale per curare la realizzazione del progetto, direttiva che in effetti è stata inviata dall'assessore ai servizi finanziari Ivan Rando. Andiamo allo sport, calcio serie D. La San Cataldese ha tesserato l'attaccante messinese Tommaso Bonanno, proveniente dalla polisportiva Santa Maria. In passato è stato anche in forza cittanovese, Castrovillari, Biancavilla, Sorrento, Como, Gela, Taranto e ACR Messina. La squadra Verde Maranto tornerà in campo l'8 gennaio per affrontare il Sant'Agata in trasferta. Venera, questa è l'ultima notizia per oggi. Non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nella prossima edizione del Telegiornale. Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Ben trovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì, quando l'anticiclono interesserà un po' tutta l'Europa meridionale. Giovedì e venerdì invece questo fronte nuvoloso sulla Spagna e le isole britanniche lambirà parte del nord e la Toscana con qualche precipitazione. Nel dettaglio, ecco, in sintesi, la situazione per mercoledì con delle nubi irregolari su parte del nord e poi nubi basse le segnaliamo sulla parte tirrenica. Prossima in mappa delle precipitazioni ci fa vedere comunque pochissimi fenomeni, qualche goccia di pioggia a confine tra Liguria e Toscana. In sintesi la mappa dell'Italia, quindi delle nubi irregolari in pianura padana sul versante tirrenico, qualche locale fenomeno tra Liguria e Toscana, altrove clima asciutto, più sole al sud, tra l'altro qui le temperature sulle due isole maggiori fino a 20 gradi. Seguite gli ulteriori approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Vizzini Viale Trieste Servizio notturno Eufrate Via Filippo Turati Vizini Vizzini Vizzini